Con l'aumentare dei casi di persone positive al coronavirus, in queste ore l'amministrazione comunale di Fano deciderà se svolgere o meno la fiera di San Bartolomeo in programma il 24, 25 e 26 agosto. Numerosi infatti i commenti sui social di cittadini contrari allo svolgimento dell'evento con un conseguente pericolo di nuovi focolai. Sono ovviamente giornate cruciali per le decisioni, ci stiamo confrontando con le città di Pesore e Senigallia, con la Regione Marche, con la Prefettura perché sappiamo che in un qualche modo i contagi sono in aumento, quindi sappiamo che ci vuole molta attenzione in questo momento e nelle prossime ore prenderemo una decisione sul da farsi. Al momento la conferma è stata dettata dal fatto che ci sono tante famiglie e tante persone che lavorano nell'indotto delle fiere, dei mercati e in questo momento anche il governo nazionale ha dato la possibilità di portare avanti questo lavoro, quindi la nostra città ha dato una conferma, ma ovviamente non abbiamo escluso e ogni giorno stiamo trattando l'argomento perché se le cose si modificheranno, se c'è un aumento dei contagi e quindi se non possiamo garantire la salute delle persone, ovviamente la fiera sarà sospesa. Nelle prossime ore prenderemo una decisione.